Ciao a tutti ragazzi! Io mi chiamo Biancio al solito e gli iscritti sono italiani, non in tutto il mondo, che se non capisco la mia dica. E perciò oggi ho una bella sorpresa, un'altra. È il titolo ho sentito altre cinque figurine di Jurassic World 2. Adesso ve li mostro, buona visione! Vedete raga, uno, due, tre, quattro, cinque. E questo è l'album, vedete la bustina, adesso l'apriamo. Occhio, aspettate, spero che c'è l'idominus rex. Questo era quello dell'altro, Claire Owen. Owen, la leggendaria con l'immagine di Claire, una carta. Ok. Apriamo l'altro. Aspettate. Eccolo qua, il mososauro. Questo l'ho visto, si chiama zia, questa. Le uova. E questo... La dottoressa. Sì. Questo è il carnotauro. Manco altre due bustine. Wow! Guardate, questo l'ho visto. Qua il T-rex cerca di fare nelle fauci, ma lo evita. Ma poi gli finisce male. Tutti che erano contenti e poi lo mangiano il mososauro. Il triceratopo. Qui viene conficcato l'indoraptor in questo aculeo. Questo è il T-rex. Claire è quello lì che inganna. Guardate bene! Ehi, 3D, bello! Manca l'ultima bustina. Questa è la quarta. Questa è la quarta. E questo cos'è? Ah, vero? Quello... Quello... Quello lì di... Del branchiosauro che è stato ucciso. L'ultima bustina. Come al solito le figurine le appiccico io da solo. Owen... Questa sarebbe blu, giusto. Un pezzo del mososauro fortunato. E il dottor Bu. Guardo l'album. E ora fra un po' io solo, in pace, me le appiccicherò le figurine. E... Ci vediamo pomeriggio o stasera. Quando in base ho tempo. Perché domani ho gli esami, ok? E... Bene ragazzi. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale. E... E... Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Lasciate... Like. Mi piace. E visualizzazione. Ci vediamo pomeriggio. Quando avrò tempo per un prossimo video. Perché domani ho gli esami. Ce li ho da... Domani fino a giovedì. Poi martedì c'è l'altro. Il prossimo ovviamente. Non domani. E... E... Ciao raga!